e quindi con le lacrime agli occhi ma con la convinzione che quella era la nostra festa, quella è la nostra storia ed oggi onorato di rappresentare l'amministrazione che ha organizzato la 68esima come la 67esima, 66esima, 65esima e 64esima perché è il quinto anno che organizziamo il carnevale onorato per rappresentare la città e con un pensiero ai giovani che ci hanno abbandonato che avrebbero voluto partecipare attivamente a questo carnevale che non lo possono fare ma sono convinto che balleranno, canteranno e suoneranno insieme a noi dall'alto. Grazie a tutti. Allora Barbara è venuta a Ponte Corvo, è una felicitazione, sì un saluto, è una felicitazione giovane, è una felicitazione giovane, è una felicitazione giovane, è una felicitazione giovane, è una felicitazione.